Buongiorno a tutti ragazzi, cambiamo location oggi invece che la cucina, invece della cucina andiamo nella mia camera da letto in mezzo alle mie cartoline che potete vedere qui dietro con tutti i posti dove ho viaggiato, tanti dei quali vi ho nominato in classe Allora, una comunicazione molto importante da fare, abbiamo fatto questa mattina il collegio docenti in videoconferenza, ognuno a casa propria e ci siamo confrontati un po' sulle modalità della didattica, su quello che sta succedendo in questo periodo E' verosimile che la scuola rimarrà chiusa fino a dopo Pasqua, è verosimile, più o meno, speriamo di poter entrare dopo Pasqua Vediamo cosa succederà, non lo sappiamo ancora, ovviamente siamo nelle mani dell'autorità, ma potrebbe verificarsi questo scenario A questo proposito, settimana prossima io ho pensato di fare in questo modo, tramite un calendario che vi darò tra oggi e domani Faremo su Edmodo dei quiz di verifica sugli argomenti di cui abbiamo parlato in questa settimana Vi farò un file, così vi metterò le date per la verifica degli argomenti Allora, queste verifiche, attenzione, non saranno valutate come normali verifiche in classe, ma avranno un peso a fine anno nella media Cioè non sarà un voto definitivo, ma sarà un voto che avrà preso appunto nella media Io il voto lo segnerò, non su Argo, ma lo segnerò, cioè avrete i vostri 7, 8, 9, 10, eccetera, normali Però poi questo voto non sarà caricato su Argo, ok? Sarà un voto che serve come un più o come un meno, insomma, vediamo, per aumentare la media o abbassarla Ma sarà un voto che non è una valutazione ufficiale, però a me serve per capire cosa avete capito Non è un voto ufficiale perché so benissimo che potrete avere dei libri davanti, eccetera Però mi serve per vedere anche chi sta lavorando e chi non sta facendo nulla, ovviamente Perché, come abbiamo detto tante volte, in questo periodo un po' assurdo, un po' strano che stiamo vivendo La scuola deve andare avanti a fare il suo dovere, lo facciamo noi insegnanti e dovete farlo anche voi studenti Quindi, ecco, ora riprendiamo le nostre spiegazioni, vi invito a seguirle, ci sono tutte le video lezioni Poi, tra oggi e domani, caricherò su Argo, nella bacheca della classe, tutte le attività che ho fatto Per cui potete controllare anche le attività che abbiamo fatto insieme in questa settimana Allora, spero sia stato tutto chiaro Letteratura, pagina 314 Allora, letteratura, stiamo portando avanti due filoni paralleli Ovviamente è una cosa che in classe noi non possiamo fare, questo, però Con questa modalità della didattica a distanza possiamo farlo Facciamo una rapida sintesi Il filone della poesia Che è quello che ci ha portato da Foscolo, fondamentalmente Che è il primo argomento che ho spiegato io, passando per Leopardi fino a Pascoli Ok? E poi il filone della cosiddetta prosa, cioè della narrazione Del racconto che passa da Manzoni, fondamentalmente Per cui sto tenendo separati questi due binari Oggi vorrei riprendere la poesia Con quella poesia che vi era piaciuta in classe E vorrei riprendere la pagina 314 del nostro libro La poesia è La mia sera di Pascoli Poi spiegherò anche Lavandare Poi riprenderemo la questione della lingua dei Promessi Sposi E i primi testi del romanzo di Manzoni Pagina 314 Nel frattempo io sto incominciando a guardare i vostri compiti sul modo E anche lì per le prove invasi Probabilmente farò una valutazione simile a quella che ho fatto Per appunto quella che farò Magari anche per il tema, per i temi Adesso vedremo perché voglio introdurre anche un altro tipo di tema Anche perché ragazzi capite Introducendo queste cose adesso che abbiamo tempo Quando poi torneremo a scuola Se andrà tutto bene Cosa che ci auguriamo Avremo tempo per esercitarsi insieme Fondamentalmente questa è un po' la mia idea E per finire il programma Soprattutto per voi di terza Che avete necessità di finire il programma Per la reparazione adeguata alle scuole superiori E questo io ci tengo assolutamente che vada avanti Per cui vi chiedo davvero la massima collaborazione Allora, pagina 314 La mia sera di Giovanni Pascoli Leggo e faccio la paraffasi Il giorno fu pieno di lampi Ma ora verranno le stelle Le tacite stelle Nei campi c'è un breve gre gre di ranelle Le tremule foglie dei pioppi Trascorre una gioia leggera Nel giorno che lampi che scoppi Che pace la sera Allora, in realtà la paraffasi è molto molto semplice Il giorno è stato pieno di lampi Ma adesso verranno le stelle Le stelle tacite Guardate la nota numero 1 Cosa sono le stelle tacite? Questa è una figura retoica Che abbiamo già incontrato Ve ne ho già parlato Vi ho parlato sia di sinestesia Che di parestesia Questa è una sinestesia Cioè, vedete cosa dà la definizione Segnate la pagina 314 E studiatela bene Due vocaboli associati Che si riferiscono a due fenomeni percepibili Con organi sensoriali diversi In questo caso L'udito e la vista Possono essere anche il gusto L'olfatto Qualunque organo sensoriale La sinestesia è l'accostamento Di sferi sensoriali diverse Le stelle sono tacite Perché appaiono nella notte silenziosa Ma le stelle di per sé Tacite vuol dire silenziose, no? Le stelle non fanno rumore Le stelle sono qualcosa che noi vediamo Quindi legato alla vista Mentre invece tacito Quindi silenzioso Qualcosa legato al rumore Le stelle non possono fare rumore Quindi questa è una sinestesia Abbiamo già detto che Pascoli È particolarmente attento A questa dimensione Musicale del linguaggio Nei campi c'è un breve Gre-gre di ranelle Vedete? Questa è una voce onomatopeica Un'onomatopea Ne abbiamo già parlato Che riproduce il verso delle ranocchie Le ranelle sono le ranocchie Le rane Nei campi c'è un gre-gre breve Che dura poco Di rane, di ranocchie Teniamo conto che Abbiamo visto adesso Già due figure retoiche Particolari del linguaggio di Pascoli Che non sono solo di Pascoli Ma che segnano una nettissima differenza Tra Pascoli E per esempio Leopardi Che ha un'attenzione Differente al linguaggio Ha un linguaggio più Profondamente Riflessivo Se vi ricordate Sempre legato alla natura Ma questo Ripetersi dei suoni Oppure delle sfere sensuali diverse In Leopardi non c'è Mentre invece È presente appunto In questo testo di Pascoli Le tremule foglie dei pioppi Sono le Vedete Anzi Leggiamo la nota Scusate Un brivido leggero di vento Sfiora le foglie di pioppi Che si muovono Quasi tremando Voglio farvi notare una cosa C'è un soggetto Qual è il soggetto di trascorre? Una gioia leggera Trascorre le tremule foglie Dei pioppi Questo è la costruzione della frase Una gioia leggera Trascorre le tremule foglie dei pioppi Questo verbo trascorrere È utilizzato Con valore transitivo Eh Vi avevo già parlato anche di questo Trascorre che cosa? Le tremule foglie dei pioppi Questa è un'altra figura retorica È un espediente È una strategia Molto utilizzata Dai poeti simbolisti E che verrà utilizzata In tutta la letteratura italiana e europea Soprattutto all'inizio del novecento Qual è l'effetto? Ovviamente È un po' un effetto evocativo Un effetto simbolista Anche l'uso del verbo Guardate questo Trascorrere Una gioia leggera Può trascorrere le tremule foglie dei pioppi Trascorre vuol dire attraversare Fondamentalmente Vedete? Un brevido leggero di vento Sfiora Sfiora Le foglie dei pioppi Eh Trascorre nel senso appunto Di attraversare Di passare sopra Di toccare Di sfiorare Ok? Le foglie sono tremole Quindi che Tremano In questo caso Ci sono due modi Per indicare questa sensazione Tremule Che è un aggettivo E trascorrere Che è invece un verbo Tremule è ovviamente Un aggettivo Un omatopeico Perché c'è questo Ok? Questo Scusate per la mia remoscia C'è questo Altro modo Di richiamare All'interno della parola Un suono Pasquale ragazzi Non sceglie mai Le parole a caso Nel giorno Che lampi Che scoppi Che pace La sera Nel giorno ci sono i lampi E gli scoppi E la sera c'è la pace C'è una contamposizione netta Fra il giorno E la notte Nel giorno ci sono i lampi E di notte Arrivano le stelle Ok? La pace Della sera Quindi Pasquale introduce subito Nella prima strofa La tematica Della pace Della sera Data dalla natura Perché vedete Ancora una volta Il tema è quello della natura Lui sta osservando Com'è il giorno E com'è la sera Durante Cioè Com'è la natura Scusate Sia di giorno Che di sera Si devono aprire le stelle Nel cielo Si tenero e vivo Là presso le alleghe ranelle Si inghiozza monotono Un rivo Di tutto quel cupo tumulto Di tutta quell'aspra bufera Non resta con dolce Si ingulta Nell'umida sera Il discorso della metica L'abbiamo già fatto Spero che ve lo ricordiate Andate a recuperarlo Nei vostri appunti Vediamo come paraffas Al vostro libro Le stelle si accenderanno Sicuramente In un cielo Così limpido E chiaro Tenero E vivo Un cielo Tenero E vivo Anche qui L'aggettivazione Non è perfettamente Adatta A quello che è il cielo Il cielo può essere vivo Ni Ecco C'è un uso Anche qui Simbolico Del linguaggio Sono tutte Ragazzi Metafora C'è un uso Molto metaforico Siamo nel simbolismo Per cui abbiamo detto Che le parole Hanno un preciso Anzi non un preciso Scusate Hanno un valore Simbolico Cioè rappresentano Qualche cosa Dato Che cosa rappresenta La sera Non l'abbiamo ancora capito Lo vedremo Mano mano Che andiamo avanti Presso le granelle S'inghiozza Monotono Un rivo Un rivo È un fiume Un rivo S'inghiozza Monotono Il rivo È personificato S'inghiozzare Vuol dire Pianucolare Con le lacrime Intanto Far fogliare Un po' Il rivo È un fiume È personificato Questo è uno Dei pochi Latinismi Che abbiamo Guardate Pagina 314 L'origine delle parole Del termine latino Rivum Che indica Un piccolo Corsa d'acqua In italiano Abbiamo le forme Più popolari Sono rio E ruscello Come potete vedere Invece Rivo È una forma Colta Una forma Appunto latina Ce ne sono pochi Di latinismi In 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 pascoli E soprattutto Tutte queste costruzioni Latine Che abbiamo visto In leopadi In foscolo Qui Per adesso Non ci sono Di tutto quel Tupo tumulto Vediamo Aspettate Volevo dire No Teniamo solo La nota Quarta Scusate È presente Un'analogia Come si aprono I fiori sul patro Si aprono Le stelle In cielo Ecco Questo è Molto importante Vi avevo già parlato Di questa Analogia Questo accostamento Aprire le stelle Nel cielo Si tenero E vivo È Nello stesso Modo In cui si aprono Le stelle Nel cielo Tenero E vivo Si aprono Nel prato I fiori Ok C'è un collegamento Fra il cielo E la terra Ok Di tutto questo Quel cupo tumulto Di tutta quella Spobuffera Vediamo la nota 5 Scrosciare delle piogge Ed esplodere dei tuoni Questo è il significato Della parola Tumulto Un'altra parola In cui c'è questo eco Di suono Quindi sempre Anomatopeico Tumulto Questa T Molto dura Che indica appunto Suono duro Di quello che può essere Fondamentalmente Un temporale Tutto quel tumulto Quindi quella Pioggia Quello scrosciare di pioggia E quel rimbombare Di tuoni Anche rimbombare È un'altra parola Anomatopeica Di sera Non resta che un dolce Singulto Un singhiozzo Lo stesso singhiozzo Singulto È sinonimo di singhiozzo Verso 12 Esattamente come Singhiozza Monotono Un rivo Alla sera Della Scusate Della Della bufera Della sera Non resta che un dolce Singulto Un singhiozzo Alla fine Alla sera Vedo che arrivano le stelle Per cui il temporale Piano piano Se ne va Ok Vi faccio notare Un'altra cosa Il rivo Che singhiozza Monotono Del verso 12 È in antitesi Questa parola Segnatevela Antitesi Vuol dire In contrasto Con il verso precedente Le alleghe ranelle Eh Le ranelle sono alleghe Le cantano Ma il fiume Si inghiozza Monotono Cosa vuol dire monotono? In modo sempre uguale Direi monotono Nello stesso modo In modo sempre Sempre Costantemente Uguale Ok Andiamo avanti Pagina 315 Verso Scusate no Sì Verso 16 È quella infinita tempesta Finita in un rivo canoro Dei fulmini fragili Restano cire di propria d'oro O stanco dolore Riposa Attenzione La nube nel giorno più nera Fu quella che vedo più rosa Nell'ultima sera Allora Quella infinita tempesta Finisce in un rivo canoro Guardate cosa dice il vostro libro Quella tempesta Che pareva tremenda Finita nel dolce cantare Di un ruscello Dopo il tormento Finalmente Desidero di essere felici Il rivo Può essere canoro? No Il rivo non può essere canoro Non può cantare È una Quasi una sinestesia Questa Non proprio una sinestesia Ma quasi Sicuramente Viene dato un nuovo aggettivo A questo rivo Questo fiume Che magari potrebbero essere fiumi diversi Prima erano notono Verso 12 Adesso è canoro Cioè canta La tempesta Finisce dentro il fiume Che fa rumore Dei fulmini fragili Attenzione Vi dice bene il libro Notate Sono prodotte dalle due parole Dove la ripetizione della F Simula un soffio Fragili sono Fulmini molto veloci Istantanei Zic 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 Veloci Come si chiama questa figura retorica Fulmini fragili Ok F poi F R Si chiama Allitterazione Terzo elemento Del linguaggio di Pasquale Primo elemento La sinestesia Quindi la mescolanza di sfere Diverse Sensoriali In particolare L'udito Come abbiamo visto L'onomatopea Sia l'onomatopea pura Come per esempio Il gre gre Oppure le parole Onomatopei Onomatopeiche Onomatopeiche Scusate Come appunto Singulto Tumulto Eccetera Terzo elemento Terzo elemento La letterazione Quindi il ripetere E l'insistere di alcuni suoni Dei fulmini fragili Quest'idea della Indet No scusate Della debolezza Della natura Prima soffio Adesso i fulmini fragili C'è una delicatezza Molto evidente In questo testo Anche Diciamo Dovuta Alla scelta Di queste parole Molto semplici Vedete che è un linguaggio Molto semplice Questo l'avevamo già notato E anche a questo ritmo Di questi Di questi Novenari Così Dattilici Quindi che si ripetano Come se fossero una cantilina Quasi di per bambini Il giorno fu pieno di lampi Ma ora verranno le stelle Le tacite stelle Nei campi Ricordate L'abbiamo già detto Chi di voi La sta studiando La studiata memoria Si è accorto assolutamente Di questa cosa Riposa Stanco dolore C'è al verso 21 Un'invocazione Al dolore Questo è un complemento Di vocazione Abbiamo già detto L'abbiamo trovato Sia in foscolo Che in leopadi È un vocativo Di origine latina Si invoca al dolore E gli si dice Alla sera Di riposare Come riposa Il dolore dell'uomo Così riposa di sera Anche la natura Scusate Ho saltato due versi Dei fulmini fragili Restano Cire di propore d'oro Dei fulmini Che sono andati Durante il giorno Siamo richiama il verso 1 Il giorno fu pieno di lampi Fulmini e lampi Cosa restano? Restano delle nuvolette Guardate la nota 9 Nuvolette bianche Alte e leggeri Segni di una serenità Che Che torna Ok Quelle nuvolette in alto Che di solito ci sono Quando c'è cielo sereno Avete presente I cirei Di porpora E d'oro Porpora è un colore Rossastro Porpora tra l'altro Una stoffa molto nobile Per i latini Con cui si facevano vestiti Porpora e d'oro Sono ovviamente Due colori regali Due colori positivi In questo caso Secondo voi Qui dovremmo dialogare Ma ovviamente Ve lo dico io Scusate È l'abitudine della scuola Porpora e d'oro Sono diciamo Caratteristiche Attribuite A queste nuvolette Caratteristiche Simboliche Irreali Perché ovviamente Le nuvolette Non possono essere Dorate O rosse Possono Non è Ma insomma Possono essere rosse E dorate Se siamo al tramonto Ma sicuramente La scelta di questi due aggettivi Oltre che Più che reale Diciamo è anche simbolica Ok Due colori regali Due colori appunto Positivi La nube Nel giorno più nera Fu quella che vedo Più rosa Nell'ultima sera Adesso invece Ci viene introdotto Un nuovo elemento Dopo l'elemento Dell'udito Che è stato L'elemento più Importante Adesso si insiste Sull'elemento Della vista Vedete La nube Nel giorno più nera Quella nube Che durante il giorno Non è stata nera È la stessa Che io vedo Più rosa Nell'ultima sera Qui attenzione ragazzi Che Dobbiamo andare Oltre il significato letterale Perché si parla Di ultima sera Non è più una sera Qualunque Fino a qui Sembrava essere Una sera qualunque L'ultima sera Invece ci fa capire Che Pasquali sta usando La sera Come simbolo Simbolo di che cosa? Vediamo la nota 10 Diventa importante Il riferimento autobiografico La terribile disperazione Della gioventù Si è letalmente Trasformata In serena saggezza In vecchiaia L'ultima sera Ovviamente È una metafora Per indicare L'ultima fase della vita Per cui la vecchiaia A partire da questo verso 24 Tutto il testo Cambia interpretazione Tutto il testo Cambia interpretazione Capiamo Noi capiamo Che La sera Rappresenta L'ultima fase della vita Questo giorno Pieno di lampi Non è nient'altro Che la vita di Pasquali Distrutta La famiglia Che è stata distrutta Il nido Che è stato rotto Le sue difficoltà Il fatto che lui Ha dovuto portare Avanti tutta la famiglia Quasi da solo Elementi di cui Abbiamo già parlato Quando abbiamo introdotto La vita di Pasquali Sempre tramite Videolezione Quindi In che cosa Questa poesia È simbolista Fondamentalmente Nel fatto che La sera È tutta una metafora Di qualcos'altro È tutta una metafora Di qualcos'altro Ok Ed è fatta Di un grande simbolo La sera Contrapposta Al giorno Il giorno Pieno di lampi E la pace Della sera Rappresentato È tutta una metafore Legate alla natura Un grande simbolo Che riguarda Che collega Diciamo Tutta la poesia Scusate Poi Ci sono Piano piano Dei piccoli simboli Che noi possiamo Interpretare In questo modo Ok I lampi Possono essere Le disgrazie Le sfortune Istantanee Il gre Gre di ranelle Possono essere Invece Dei suoni positivi Che rilassano Diciamo Si torna a cantare Per essere felici Nella vecchiaia Pasquali raggiunge Una sorta di serenità Vediamo cosa succede ancora In questa vecchiaia In questa sera 25 Che voli di rondini intorno Le rondini Volano intorno Le rondini Vengono con la primavera Quindi sono un segno Positivo Di vita che torna a nascere Nonostante la vecchiaia Che gridi nell'aria serena Si grida nell'aria serena Si esulta Si festeggia Quest'immagine Ricorda un po' Se vi ricordate L'immagine iniziale Del passero solitario Di leopardi Che c'era questo passero C'erano meglio Questi uccelli Che volavano E i leopardi Come il passero Se ne stava da solo A guardare i loro Voli felici La fame del povero giorno Prolunga la gara O la cena La parte si piccola I midi nel giorno Non le ebbero intera Ne io Che voli Che gridi Mia limpida sera Siamo ancora In strofe Che diventano Sempre di più Autobiografiche Cosa vuol dire Autobiografico Che parlano Di se stesso Cioè Scusate Pascoli Parla di se stesso Autobiografia Racconto Di se stesso Quanto vuol dire Autobiografico Ma già lo sapevate Ovviamente il verso Che ci fa capire Definitivamente Che il registro Il tono della poesia È diverso Da quello che ci aspettavamo È il 31 Ne io Io Pascoli qui Non si lascia andare A simboli Ci dice direttamente Io In realtà io sto parlando Di me E della mia vita Non è un autobiografismo Nascosto Ma è evidente È esposto È sottolineato È chiaro Pascoli non vuole Lasciare dubbi All'interpretazione Ok Verrafrasiamo Vediamo la nota 11 La giornata faticosa Per il temporale Ha rallentato La ricerca di cibo Per gli uccellini Che ora accenno Allegramente E con più fame Garola È un altro latinismo Il secondo latinismo Che troviamo Così esplicito Attenzione Al verso 29 La parte del cibo È la parte Indica la parte del cibo Si piccola Si sta per così Così piccola I nidi Nel giorno Non l'ebbero intera Il soggetto Sono i nidi I nidi Durante la giornata Non hanno avuto La loro parte Anche se così piccola Di cibi Ok Vediamo un secondo Secondo Alla prossima Alla prossima